Allora oggi come potrete aver visto dal titolo Montata una nuova marmita che ho comprato una settimana fa insieme anche al carburatore Infatti prima avevo, beh nell'ultimo periodo avevo 17 e mezzo con la scatola filtro e top nardo 2 Invece adesso ho comprato una shot v4 Ho comprato la stessa marmita praticamente però sicuramente era un bel affare visto che per come è messa voleva pop Adesso mi metto qualche foto e in più mi ha venduto anche un 21 che vabbè avevo già il 19 però sempre meglio un carburatore in più Infatti adesso ho tenuto la scatola filtro e non ho messo il cono E quindi ho montato la shot v4 e giuro non fa casino rispetto alla top nardo ma proprio Non fa casino Non pensavo ci fosse tutta sta differenza perché in teoria alla fine cambia solo il silenziatore Poi oggi pomeriggio l'ho carburato con il 21 anche se devo dire che non è ancora carburato perfettamente infatti è un po' grasso Soprattutto quando riapri ogni tanto sembra ingolfato ecco Infatti anche adesso Ieri avevo montato la shot tenendo 17 e mezzo come era carburato e secondo me magari è solo una mia impressione ma E anche adesso col 21 si ha preso più bassi però agli alti secondo me la nardo ha qualcosa in più Non so da cosa sia dovuto perché in teoria le panci dovrebbero essere uguali Non fa casino E guarda che carbur Sembra l'arro Vero non potevo non comprarla per quel che l'ho pagata E' nuova ok è nuova Poi ho messo il 21 oggi Ah il 21? Si E come gira? Ci sta Andiamo Musso il 21 Qua? E' più pieno? Si Vabbè ovvio Però con la shot v4 mi sembra perda in allungo Eh cioè devo mettere aria Ho fatto più buchi Tre buchi Mi fanno mille Ma dopo se vuoi provarlo un attimo non capisco E' aria fidati C'è una questione di aria Vado via col cono e risolvo Vai 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 andiamo Ci mettiamo qua E' aria fidati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.